ariete determinazione dinamismo e impeto sono le caratteristiche che vi infonde il quadro astrale del momento ma siete oggetto anche di una opposizione di venere con urano in transito nel segno che porta qualche novità in amore novità che possono essere anche burrascose toro giornata dai contorni rilassati positiva per quanto riguarda l'umore e l'agilità mentale che vi rendono pronti a intensificare i rapporti con le persone che vi circondano anche la regolarità quotidiana può essere gradita a chi come voi ama le consuetudini e la pace gemelli le percezioni emotive oggi sono appannate da una luna disarmonica che vi orienta a pensieri più cupi e insoddisfatti non gettate al vento le belle opportunità che avete adesso in amore per qualche impressione fulgevole che non ha spessore cancro una ventata di positività abbraccia questa giornata e vi predispone ai contatti con gli altri ad equilibrare la vostra intima sensibilità un iconeo venere dissonante che complica un po le faccende amorose causando qualche incomprensione o compromettendo le vostre doti di conquistatori leone periodo interessante e proficuo per voi sia dal punto di vista dell'affermazione personale e dei successi in amore l'impeto passionale pervade i vostri atteggiamenti ma siete capaci anche di concretizzare e consolidare le questioni più importanti vergine una luna nemica oggi è causa di nervosismo e abbassa il tono dell'umore soffocando ciò che di positivo avete intorno usate la vostra abilità critica per discernere le ragioni dalle impressioni e cercate di indirizzarvi su pensieri costruttivi bilancia venere in transito amplifica il settore sentimentale ma l'opposizione con urano vi insinua anche una certa in sofferenza per la routine per le cose ordinarie vi avete voglia di qualcosa di diverso dal solito di sorprese sono possibili colpi di fulmine situazioni movimentate in amore scorpione buona armonia tra mente e anima oggi la luna armonica offre un valore aggiunto alle vostre emozioni mentre sole e mercurio positivi vi rendono ancora brillanti e propositivi mantenete la giusta dimensione delle vostre aspettative e riceverete soddisfazioni sagittario una vena sottile di irritazione potrebbe caratterizzare questa giornata vittima di una luna distorta che incupisce le sensazioni sorvolate sui pensieri poco felici e apprezzate i risultati raggiunti le piccole certezze di ogni giorno che costituiscono una base di lancio per i vostri sogni capricorno un buon equilibrio tra emotività e idee produce un bel connubio per organizzare una giornata dai contorni produttivi di capacità comunicativa che attira consensi un po sottotono invece la sfera sentimentale forse siete lontani dall'amore perché concentrati su altre situazioni acquario giove si pone in aspetto armonico per lungo tempo e rafforza le opportunità di successo dei vostri progetti ampia il ventaglio delle occasioni e vi infonde un benessere ottimistico che sarà un bel punto di forza ma non basta adesso un cielo astrale splendido vi offre passione e amor pesci la luna di passaggio nel segno assume modalità romantiche e vi inclina ad essere sensibili al lato ideale e affettivo della vita ammorbidendo quel materialismo con il quale ultimamente dovete fare spesso i conti il messaggio è di non abbandonare la voce dell'istinto buone stelle